Prima di iniziare con il video di oggi ragazzi vi volevo dire che questo era un video per lo speciale 80 iscritti Detto questo ancora grazie mille e ora godetevi il video di oggi Ciao a tutti ragazzi sono Maggio G10 e oggi ragazzi siamo qui nello speciale 30 iscritti Ciao a tutti ragazzi sono Maggio G10 e oggi finalmente è arrivato il grandissimo obiettivo tanto richiesto dei 50 iscritti Ciao a tutti ragazzi sono Maggio G10 e bentornati in questo nuovissimo video speciale 60 iscritti E ciao a tutti ragazzi sono Maggio G10 e bentornati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video speciale 80 iscritti E ci tenevo a ringraziarvi degli 80 iscritti Siamo sempre più vicini ai 100 iscritti Quindi vi ricordo di attivare la campanellina e di iscrivervi al mio canale youtube E per non perdervi i prossimi video E parliamo ora un po' di quello dunque che sarà questo speciale 80 iscritti A differenza degli altri speciali che vi ringrazio solamente Stasera alle ore 21-21.30 Più o meno poi vi avviserò sul mio canale tiktok Vi lascio qua sotto come mi chiamo Vi lascio anche come mi chiamo su twitch Perché lì probabilmente in futuro porterò live Mentre su youtube solamente video Quindi vi lascio c'è come mi chiamo su twitch Che come mi chiamo su tiktok qua sotto Allora stavo dicendo parliamo di quello che sarà lo speciale 80 iscritti E sabato ho portato una live su Brawlhalla Un nuovo gioco di combattimento E ho deciso che stasera alle ore 21 Ci porterò una live dove farò 2-2 con voi E questo gioco appunto è un gioco di combattimento Se lo cercate sulla play comunque su play store Della vostra ps4 o della vostra ps5 comunque Quella che avete E vi spunterà comunque a scaricare Ci mette all'incirca 10 minuti Quindi non è neanche troppo complesso il caricamento E appunto farò una live dove creerò una stanza Voi entrerete e faremo 2-2 con altri avversari Ovviamente non entrerete sempre gli stessi Magari una volta entra uno L'altra volta entra un altro Così che riusciremo a fare una specie di torneo E alla fine con chi vincerò Probabilmente non credo Gli regalerò una skin su questo gioco Quindi si vincerà una skin E in realtà io non so come si vanno a regalare le skin Però a quanto mi ha detto un mio amico Credo che appunto si possano regalare E niente raga Detto questo Il video finisce qua Dello speciale 80 iscritti Ah mi sono scordato di ovviamente ringraziarvi Ma ormai c'è Veramente siete fantastici Vi ringrazio sempre Ma lo ripeto e lo ripeterò Ancora altre volte Che i miei ringraziamenti Non sono nulle In confronto a ciò che fate voi Per me Detto questo Vi ringrazio ancora una volta Spero che il prossimo speciale Sia quello dei 100 iscritti Perché per me i 100 iscritti Sono veramente Un traguardo immenso Anche se per molti non è niente Ma per me In pochi mesi Comunque già essere arrivato A questa soglia di iscritti Per me è veramente Tantissimo E se sono qua Tutto questo È merito vostro Quindi Ancora una volta Grazie E niente raga Iscrivetevi al canale Il video Dello speciale 80 iscritti Finisce qua Spero ovviamente Che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Vi raccomando Campanellino Per non perdere I prossimi video Che usciranno Prossimamente Sul canale Detto questo È ora che noi ci vediamo Stasera Sulla live Su Brula Ciao ragazzi See you